benvenuti questo nuovo video un video normale anzi è un video diciamo per fare gli auguri di buone feste per chi non è religioso di buon natale per chi è religioso facciamo anche un po la storia di quest'anno passati insieme ho registrato per molte persone abbiamo sentito molti cari che erano in difficoltà sono stati aiutati abbiamo sentito molti cari che stavano bene sono nella luce insomma niente era un video molto veloce però voglio farvi vedere una cosa uno schermo intero andiamo schermo intero no prima apro una determinata foto poi andiamo schermo intero e questa immagine riassume un po quello che succederà alla vigilia e a natale a santo stefano molti di noi si sederanno a mangiare non tenendo o non pensando questo fatto molto molto bello che i nostri cari saranno con noi perché perché papà dio permette in questi giorni di festa ai nostri cari di scendere stare con noi e festeggiare queste feste il natale assieme dai ritorniamo sul mio faccione sul mio bel faccione niente visto e considerato che comunque io sono in ferie fino al 7 di gennaio riinizio l'otto di gennaio farò varie sessioni uscirò con i video nei giorni in settimana ecco non più al sabato alla domenica quindi tenete d'occhio un po il tutto sito la pagina e il gruppo youtube e non si esclude una prova di una diretta multi stream cioè adesso spiego pagherò un servizio che mi permetterà di fare dirette su vari social esempio perché la problematica è questa o si fa la diretta su youtube o si fa la diretta su facebook e non si può fare su due piattaforme o tre piattaforme pagando un servizio mensile che adesso andrò a provare questo servizio mensile e vedremo di fare una diretta sia su youtube che su facebook quindi però non farò metafonia sarà una prova tecnica per vedere la qualità sia audio che video eccetera eccetera soprattutto anche con l'altro microfono come è successo nella diretta per chi ha visto la diretta perché ho due webcam due microfoni insomma per testare tutto al meglio e cercare di portare una qualità sia sonora che visiva un po più elevata cioè settare al meglio un po tutte le cose sono e niente ringrazio ringrazio tutte le persone che comunque hanno affidato i propri cari alle mie sessioni ringrazio voi che comunque avete mi contattato per cercare un contatto con i vostri cari ringrazio due persone che sono speciali nel mio cuore nella mia anima che ora è maddalena e ora è la mia cara amica non sono in ordine di di importanza perché sono due persone secondo me incredibili insustituibili insomma nel nostro cammino ci sono tante persone che comunque fanno finta di essere amici ma non sono amici poi noi ci arrabbiamo perché il percorso si divide questa cosa lo capita anche ultimamente che comunque bisogna trarre vantaggio e capire determinate cose anche in questi in questi casi come in tante altre situazioni di vita bisogna tirare fuori il meglio capire il perché c'è successa una determinata situazione una determinata cosa e capire che cosa ci insegna e che cosa ci insegna la vita insomma ecco niente sono stato abbastanza breve un video sotto i 10 minuti e niente vi voglio augurare buon Natale buone feste a voi a tutte le vostre famiglie ma soprattutto voglio augurare buon Natale ai vostri cari che scenderanno e staranno lì con voi niente in questo video taccherò tutti i componenti del gruppo che non ho mai fatto perché molti non sanno ancora che è stato riaperto e niente allora ci vediamo sicuramente domani che ci sarà un video molto importante per me chiedo venia per chi aspetta il risultato della diretta fatta dal 9 di dicembre perché in ieri è stata una cosa inaspettata è arrivata una canalizzazione del mio papà mio papà che mi insegna un qualcosa di molto particolare e mi dice qualcosa di molto particolare e questa cosa la voglio condividere con voi per farvi capire quando una persona ci lascia e va nell'altra dimensione deve fare un suo percorso mio papà ha fatto un suo percorso molto particolare all'inizio molto duro poi in qualche maniera sono intervenuto io a dargli una spinta e adesso deve ancora capire determinate cose perché comunque non si capisce tutto al volo con uno schiocco di dita ecco ci vuole tempo per capire però la sua evoluzione è davvero stata incredibile in questo in questo periodo insomma ecco vabbè domani ne parlerò forse un po più approfonditamente e niente volevo dire qualcos'altro non mi ricordo è mattina presto io registro sempre la mattina presto per fare uscire i video così il video o i video e niente vi auguro un sereno natale buone feste eccetera eccetera insomma nella speranza che comunque l'anno che verrà sia un pochettino più migliore degli altri anni anche se non sono pessimista però so determinate cose insomma non sarà fatti facile prossimo anno però comunque spero che comunque il buon dio mi dia la salute per continuare a fare fare dirette le sessioni contattare i vostri cari e cercare di uscire con i video che questa cosa a me interessa molto insomma ecco forse sono nato per questo chi lo sa vabbè dai niente un abbraccio a tutti voi grazie